amici del candred.it eccomi qua lui mi sta togliendo la scena perché guardate quante grande è nuovo il dreamy l20 ultra è un robot tuttofare lava asciuga pulisce fa di tutto ma scopriamolo subito dopo la sigla iniziale nella parte superiore abbiamo tre pulsanti che sono completamente touch uno ci serve fa ritornare i robot alla stazione base uno per avviare la pulizia e l'altro per asciugare i mop aprendo lo sportellino in alto abbiamo a disposizione due serbatoi quello trasparente serve per l'acqua pulita mentre quello più scuro serve per l'acqua sporca sono due serbatoi davvero capienti rispetto ad altri modelli mentre nella parte centrale abbiamo questo sportellino lo sportellino che cosa serve a mettere il detergente quindi possiamo andare ad infilare il detergente in questo modo e abbiamo una spazzolina che serve per la pulizia del robot ma non solo c'è questa specie di taglierina che serve per andare a rimuovere completamente peli e capelli dal nostro robot nella parte posteriore è presente il tasto di accensione spegnimento e questo sportellino che si può rimuovere in questo modo dove troviamo il connettore per l'acqua pulita e quello per l'acqua sporca con un alimentatore questo è un kit che bisogna comprare a parte quindi non incluso nella confezione serve per lato svuotamento e lato immissione dell'acqua pulita all'interno della stazione base qui abbiamo uno sportellino completamente magnetico all'interno ci sono due sacchetti uno già installato l'altro che è da installare una volta riempito questo qui abbiamo un interruttore bisogna andare a sbloccare per il primo utilizzo qui dietro guardate un po c'è il motore di aspirazione quindi tutta l'aria viene prelevata attraverso le fessure dentro a questo motore che poi effettua lo svuotamento automatico del nostro robot nella parte bassa c'è il vero cuore del lavaggio e dell'asciugatura dei mop il robot una volta entrato all'interno effetto a un lavaggio quindi qui esce l'acqua si riempie questa vaschetta che è removibile quindi la potete anche lavare finalmente è stata adottata questa soluzione perché sugli altri robot era veramente scomodo andarla a lavare una volta riempita quindi i mop iniziano a girare e si lavano poi qui dietro non so se riuscite a vederlo l'acqua viene convogliata direttamente nella vaschetta sporca che abbiamo visto in precedenza qui invece abbiamo due fori che servono allo svuotamento della polvere che finisce poi all'interno del nostro panno sempre sulla parte superiore c'è un piccolo foro come vedete con un gommino che serve per l'immissione dell'acqua e della soluzione direttamente nel nostro robot nella parte interna troviamo due flash led che vanno a illuminare la nostra stanza in caso di scarsa luminosità un vetro in plastica molto leggero che va a proteggere la fotocamera per il rilevamento di ostacoli o addirittura che funziona da videosorveglianza ruotando c'è un altro sensore sempre per battiscopa o altro fa una cosa carina e vi faccio vedere c'è un'ulteriore protezione di impatto che sarebbe questo pulsante quindi quando questo si preme si interrompe immediatamente la pulizia e robot cambia direzione cosa che succede molto poco visto che abbiamo un sensore nella parte superiore vi andrò a descrivere tra poco qui ci sono le griglie di raffreddamento e per l'aspirazione mentre nella parte posteriore due contatti che avete visto il servono di ricarica e il sensore per il corretto funzionamento poi qui dentro guardate c'è un foro ci va il pirulino se così lo vogliamo chiamare della base che va a ricaricare proprio all'interno di essa il liquido detergente o direttamente l'acqua nella parte bassa sono presenti dei sensori che servono a rilevare possibili cadute quindi se rilevano un gradino vanno a bloccare immediatamente l'aspirazione fanno ruotare il robot e riescono a rilevare anche che tipo di pavimento è e se è un tappeto qui invece sulla parte di destra o sinistra come state guardando il video c'è un'altra spazzola non è senza inserire una spazzola solamente su questa parte io l'avrei inserita sia da questa parte da quest'altra in modo da effettuare una pulizia ancora più accurata qui invece questa è una cosa che ci hanno abituato anche gli altri robot è il la guida che va a ruotare il robot e direzionarlo nella parte posteriore sono le ruote ruote motrici che fanno il vero e proprio movimento del robot qui parte posteriore i mop mop che sono completamente magnetici quindi una volta inseriti in questo modo si bloccano in modo completamente automatico ricordatevi che se i mop non sono collegati il robot funzionerà solamente in modalità aspirazione mentre nella parte centrale che è questa qui c'è la spazzola spazzola finalmente i produttori hanno capito la spazzola fatta di silicone per non far aggrovigliare i peri all'interno la spazzola poi se riuscite a vederla ha dei puntini e cosa servono queste a grattare via lo sporco dalle e dalla superficie delle piastrelle mattonelle quello che avete pavimento perché o altro sono delle dei puntini veramente morbidi quindi non rischiate di andare a rovinare il vostro pavimento per avviare la pulizia riempiamo il serbatoio dell'acqua pulita andiamo ad inserire il nostro detergente in questo modo sarà sufficiente fare un clic verso il basso per gente è stato inserito adesso andiamo sull'applicazione una volta installata l'applicazione sarà sufficiente scansionare il core code per interfacciare il robot alla stessa e tappando su di essa abbiamo immediatamente la visione della mappa che viene realizzata durante il primo avvio del nostro robot quindi viene effettuata una mappatura molto rapida nella parte alta possiamo andare a scegliere la stanza da pulire se pulire tutto il piano o la zona nella parte bassa ci sono delle opzioni molto interessanti come la clean genius a che cosa serve per effettuare una pulizia più profonda o standard la potete scegliere in questo modo sotto potete scegliere se iniziare la pulizia o meno far ritornare i robot alla stazione base e soprattutto questo pulsante di ritorno alla stazione base si trasforma nel momento in cui i robot si trova all'interno e quindi possiamo andare a decidere se e asciugare i mop pulirli e oppure effettuare lo svuotamento automatico del motore e della vaschetta presente nel robot nella parte alta un'opzione molto interessante questa della telecamera perché i robot funziona anche da videosorveglianza una volta avviato c'è la possibilità di andarlo a controllare quindi possiamo ruotare in questo modo far ritornare il robot alla base farlo andare indietro far andare in avanti per videosorvegliare la vostra abitazione interessante anche la possibilità di andare attivare il microfono scattare una foto registrare un video farlo ritornare alla stazione base andare ad attivare la torcia presente davanti e andare a controllare la mappa quindi sappiamo precisamente dove si trova il nostro robot e dove andarlo a direzionale un pochettino come succede anche con i droni qui invece sulla destra cioè la possibilità di andare a riservare un'area quindi andarla ad escludere creare una barriera virtuale escludere delle zone per il lavaggio in motion mettete caso che avete una zona che non vuole lavare perché c'è un parquet molto delicato e potete andarla ad escludere quindi è molto interessante e tornando sopra le impostazioni qui c'è una serie di impostazioni davvero incredibili infatti andiamo a vedere molto velocemente cronologia della della polizia questa ve lo faccio vedere perché la mappa viene effettuata viene effettuata utilizzando l'intelligenza artificiale e rilevando tutti gli ostacoli che possono essere tavolini sedie bilance e ci vengono segnalate qui sopra questi ostacoli vengono aggiornati man mano che i robot effettua la polizia riesce a capire quali sono gli ostacoli fissi e quelli che si muovono la polizia programmata molto interessante si può decidere i robot quando pulire la vostra abbiazione quindi magari lo volete pulire tutti i giorni alle 5 potete effettuare la polizia le 5 impostando tutte le decidure che ci vengono detto quindi seleziona la stanza fargli fare una polizia magari smart quindi completamente automatica torniamo indietro impostazione per la polizia dei tappeti lui è intelligente in grado di rilevare anche i pavimenti e adattarsi mentre impostazione intelligente il nostro robot guardate sono veramente tantissime opzioni come l'aggiunta automatica e detersivo lo smontaggio dei mocio l'estrazione automatica dei mocio la seconda pulizia automatica questo se avete una casa magari con tanti animali che vi sporcano continuamente il pavimento potete decidere effettuare una pulizia molto più profonda utilizzando la seconda pulizia automatica il lavaggio automatico del mocio in determinate occasioni nella parte bassa c'è il tempo residuo che è stato da tutto male è la manutenzione tutti quei componenti che vanno sostituiti o puliti durante la vita del nostro robot la fotocamera in tempo reale ci dà una serie di impostazioni per quanto riguarda la videoserveglianza le funzioni di laboratorio io l'ho attivato questo qua aumento di potenza per far cercare le più grandi viene aumentata la polizia per far in modo che tutte le particelle non vengano sparate dosso al muro magari che rimbalzino e quindi rischiamo e di ritrovarci la nuovamente sul pavimento identificazione ai è quella che ho fatto vedere prima qui sarete animali domestici potendo attivare l'opzione e apposita e addirittura in grado di riconoscere animali domestiche oppure intorno ad esso voglio vedere un animale domestiche si trova un robot circondava robot che cerca di evitarlo oppure rimane impassibile le a guardare cosa succede quindi è un'opzione secondo me abbastanza inutile e immagini trovabilizzazione immagini gli ostacoli sono disponibili quindi viene scattata una foto direttamente dell'ostacolo e vi viene memorizzata e inviata e sulla parte invece sempre del menù sono gestire i robot quindi fare un blocco bambini per bloccare e i tasti presenti su di esso a modalità di dnd il robot riprenderà automaticamente la polizia e la base non eseguirà operazione di auto svuotamento e diciamo che riparte in automatico l'intera polizia in modalità di prevenzione di collisione la luce di riempimento il controllare un modo e trovare i robot almeno una volta ne è successo che il robot siano incastrato sotto al divano non lo trovavo ho dovuto effettivamente utilizzare quella opzione la gestione della polizia per dirgli una volta che esaurete la batteria devi ricontinuare la polizia dove l'hai interrotta effettuando oggi mentre la ricarica più funzioni e voce volume la notifica all'unità di area e nella parte bassa non ve lo faccio vedere che sono tantissime altre opzioni che riguardano capire il nome del dispositivo e aggiornare il software del nostro e robot se arrivati al termine della nostra avventura abbiamo visto come funziona effettivamente il dream l 20 ultra come ho detto nell'introduzione io lo incorono come mio robot del 2023 però devo dire che ho in prova anche nego wax nuovo non vi spero qual è il modello e non vi spero altre informazioni mi dico solo è stato presentati fa e potrebbe essere lui a superarlo però lo vediamo nella prossima recensione quindi mettete un bel like iscrivetevi tanto a voi non costa nulla mettete una bella iscrizione e vedrete a breve anche il video dell'ecovax allora che dire note positive note negative ho trovato tantissime note positive in grado di riconoscere qualsiasi soggetto gli altri robot per esempio si bloccavano quando riconoscevano la cromatura delle sedie da barra quindi che cosa succedeva si arrivano lì sopra e si bloccavano lui è in grado di riconoscerle ed evitarle è in grado di riconoscere animali domestici effettua la pulizia pulizia rapida pulizia doppia il pavimento praticamente viene perfetto non vi servirà più mettere mano al mocio per pulire il pavimento quindi un oggetto davvero fantastico non ho trovato note negative veramente su di esso e l'unica cosa che andrei a dire andrea mi che era il caso magari di inserire il kit di auto svuotamento e auto riempimento direttamente nella confezione perché lui è stato progettato anche deve essere configurato con l'impianto di casa quindi come avete visto prima inserite i due tubicini con l'alimentazione è in grado di riempire svuotare in automatico i vari serbatoi senza doverlo riempire svuotare e rimettere dentro quindi era una cosa magari molto più carina che gli altri robot non hanno quindi bisogna comprare il kit a parte al momento l'ho cercato su internet non si trova da nessuna parte quindi dovete aspettare un pochettino di tempo prezzi i prezzi stiamo su una cifra davvero elevata perché stiamo parlando 1200 euro però però robot del genere sono soldi ben spesi perché pensate se vi andate a comprare un folletto magari da spendere 1800 1900 euro però dovete aspirare e poi lavare successivamente voi a meno che prendete l'accessorio per il lavaggio e non è una cosa automatica quindi spendete di più invece qui avete un prodotto veramente completo che non vi crea nessun tipo di problema allora se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like vi ricordo che in descrizione vi lascio anche il link di acquisto di lui e magari riusciamo a avere anche dei codici di sconto direttamente dall'azienda e inseriamo sempre in descrizione proprio per questo vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale perché potreste avere dei codici di sconto e per oggi è tutto grazie di averci seguito direttamente da Dario ciao a tutti alla prossima recensione